Ma io credo che lo spunto sia quello più ovvio. Io sono molto deluso da Milano, io non sono milanese, io sono monzese, sono un pendolare, sono uno di quelli che vivono Milano con molta umiltà, perché la vedono un po' da fuori, la traversano, ma non si sono mai risolti come milanesi. E devo dire che questi 18 anni che prima si ricordavano, insomma, sono stati lunghi, sono stati anche gli unici per noi, per fare politica, per vivere una vita sociale, l'università, il lavoro. E forse davvero noi dobbiamo immaginare, lo dicevi bene tu Lamberto, qualcosa di completamente diverso. Io non credo che la politica italiana in generale abbia bisogno di accomodare le cose, di sistemarle un pochettino, di spostarle di qualche centimetro da una parte all'altra. Qui c'è bisogno di un approccio, io dico rivoluzionario, con molta serenità, con la serenità che esprimi tu, che esprime il candidato sindaco, che vogliamo raccontare tutti in un centro-sinistra incredibilmente unito. Perché anche questa è una buona notizia, è davvero rasserenante. E per farlo dobbiamo partire dalle cose che poi questa sera sono interpretate molto meglio che da me, dai nostri ospiti, insomma, da un approccio ad una società che si vive come tutta intera, mentre è divisissima a Milano, è una città divisa fin dai locali che si frequentano la sera. Ci sono i posti per quelli come me e Lamberto, ci sono i posti per quelli diversi, più ricchi, più poveri. E anche questo è davvero un fatto che in una grande città europea si vive, soprattutto se non esclusivamente a Milano. Ci sono gli ultimi da cui ripartire, di cui Lamberto si occupa spesso durante la settimana, e però c'è anche l'idea che questi ultimi metterli in condizioni di essere meno penalizzati significa far star bene anche i primi, far star meglio anche quelli che stanno già bene. Perché io credo che una città carica di tensioni, rinchiusa in un provincialismo come quella che abbiamo vissuto in questi anni, in cui addirittura, guardate che non è una battuta, potrebbe essere il trota uno dei principali assessori, come dire come metafora del tempo che viviamo, dello zeitgeist, diciamo il trota bossi, questo è il sintomo di qualcosa davvero di rovesciare, da rovesciare e da rilanciare. Penso alle questioni che riguardano gli stranieri, che sono un quinto della popolazione residente, di cui la politica in questi anni ha parlato in modo pessimo, incompetente, molto parziale, di cui si sono occupati molto bene il privato sociale, l'associazionismo insensolato, e i politici hanno detto cose tremende. Penso al fatto che Milano vive, almeno dal punto di vista della politica, come separati lavoro e conoscenza. Sono tutte cose davvero un po' assurde. Ecco, allora io credo che questo è il nostro compito, provare a ritrovare quella misura dell'anima, la chiama in un bel libro, anzi sono due gli autori di questo libro che in Italia ha pubblicato Feltrinelli, la misura dell'anima, capire quali sono gli equilibri, gli standard che vogliamo ritrovare, quali sono i motivi di felicità, qual è la cosa importante, che cos'è importante per voi a Milano, che cos'è importante per noi cittadini di una grande città, di una grande regione che alla fine respira insieme alla città capoluogo e che invece la Moratti ha allontanato sempre di più dagli altri centri più periferici. Quali sono le cose a cui teniamo? Ecco, questa è la domanda che ci dobbiamo fare nelle prossime settimane e dobbiamo farla in modo scientifico e organizzativo, potremmo dire. Dobbiamo pensare davvero che è una sfida che riguarda ciascuno di noi, perché questa volta, lo dicono sempre i politici, che un voto è decisivo, che manca tanto così, ma questa volta è drammaticamente vero. Arrivare al ballottaggio dipende dall'impegno di ciascuno di noi, dalla rubrica del cellulare, dalla voglia di fare qualche cena, di discutere, di leggere un giornale insieme a qualcun altro, di provare a convincere che non è un dato naturale. Finisco così. Non è che debba essere per forza così questo Paese, che noi siamo necessariamente condannati ad un mondo che noi vediamo alla fine da uno spiraglio sempre più stretto e più piccolo. Noi possiamo immaginare qualcosa di diverso e c'è davvero una generazione di persone che si affaccia alla politica dopo questa lunga traversata di 18 anni nel deserto morattiano, albertignano, bossian, berlusconiano, perché questa è la storia che ci accompagna e che forse è pronta anche alla prova del governo della città. Perché noi, insomma, io credo che sapremmo fare meglio. Per cui, il mio è solo un augurio, un saluto. Lamberto, noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, ci siamo ritrovati per caso attraverso la politica, credo che l'occasione sia quella di fare lo stesso con tanti amici che magari si sono persi di vista e che non voteranno mica male anche questa volta. Grazie. 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 Grazie.